Ciao, io sono Marco Pava e sono uno sport trader professionista. Abbiamo preparato per te un ladder per andare a testare le tue strategie e i tuoi trade prima di entrare effettivamente a mercato con soldi reali. La prima cosa che devi fare è quella di inserire la commissione presente sul tuo conto Betfair. Mediamente è il 5%, abbiamo lasciato quello preimpostato. Poi molto semplicemente andrai a puntare in azzurro come su Betfair e bancare nella colonna in rosa. Spostiamoci su quote leggermente più reali, quindi quote in cui si opera mediamente, ad esempio una quota 1,80. Andiamo a puntare 100€ a quota 1,80, premiamo il tasto invio e ti apparirà automaticamente il profitto e perdita per ogni singolo livello di tick. Sulla colonna di sinistra il profitto e la perdita in percentuale, nella tabella, nella colonna centrale hai il profitto togliendo le commissioni, mentre nella colonna di destra hai il profitto senza aver tolto ancora le commissioni. Poi potrai andare ad effettuare riduzioni in reale oppure comunque riduzioni anche dalla parte della perdita. Adesso ipotizziamo di voler fare una riduzione di 50€, abbiamo puntato a 1,80, vogliamo fare una riduzione a 1,70, mettiamo 50 a 1,70. Automaticamente i valori ti si aggiorneranno e tu potrai andare a capire per ogni singolo livello di tick quanto sarà il tuo profitto. Questo è molto utile per capire se una riduzione è conveniente o fondamentalmente è inutile. Per azzerare il tutto abbiamo semplificato mettendo il pulsante a 0 qui sopra, premi a 0 e poi puoi rifare lo stesso procedimento molte volte. Puoi farlo anche con la bancata, ipotizziamo di voler bancare ad esempio a quota 1,85, banchi 100 a 1,85, hai il profitto per ogni tick e la perdita per ogni tick. Questo procedimento è importantissimo farlo anche a mercati chiusi per andare a capire se la strategia di trading che stai utilizzando è sostenibile o meno a lungo termine, andando a capire quanto è il tuo rapporto rischio rendimento, ovvero quanto guadagni quando vinci, quanto perdi quando sbagli un trade, e capire che percentuale di analisi effettivamente ti serve per mantenere un profitto a lungo termine e non lasciare questa situazione al caso. E' molto utile tra l'altro anche per capire poi come andare a bilanciare un trade. Ipotizziamo adesso di aver bancato appunto a quota 1,85. Vogliamo effettuare un profitto del 5% circa. Come puoi vedere qui 5,46 dovremmo uscire a quota 1,94. Se invece noi vogliamo darci uno stop loss dovremmo darcelo più o meno del 5% per essere bilanciati. Quindi il nostro cash out in perdita dovrà essere a quota 1,77. Se noi andiamo a guardare e ragionare su queste cose tramite un ladder, prima di entrare in un trade possiamo riuscire a mantenere dei buoni risultati a lungo termine. Se noi invece entriamo a mercato senza fare tutte queste considerazioni prima, ci troviamo ad essere in balia della partita e a dover pregare che il pronostico vada bene, che l'analisi sia positiva e mantenere nel tempo costanti pronostici positivi. Cosa che non succede e che bisogna assolutamente andare a prevenire.